Ragazzi, sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del torneo dedicato alla mia community su eFootball. Il primo sul nuovo eFootball, infatti, inizia appena arriva il nuovo gioco. Ho creato un'edizione per PlayStation, appunto la terza edizione con 400€ di monte premi, e un'edizione, la prima edizione lo specifico, per Xbox con 150€ di monte premi. Se volete iscrivervi o volete più info, contattatemi, trovate i social per farlo in descrizione e nel commento fissato in alto. Vi aspetto numerosi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare del nuovo eFootball. Vengo adesso dalla live, ragazzi, anzi in teoria siamo ancora in live perché sto facendo per la prima volta una registrazione mentre sto streamando, me l'hanno chiesto i ragazzi della chat. E abbiamo apprezzato, tra virgolette, tutte le novità inserite da Konami. Ovviamente la live è stata un po' una delusione perché ci aspettavamo molto, molto di più. Adesso comunque faremo un recap di tutto quello che hanno detto, quindi mi raccomando guardate tutto il video. Ragazzi, questa parte è fondamentale, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un bel like, almeno 100 mi piace di supporto se apprezzate questo tipo di contenuto. E inoltre vi ricordo che faccio lezioni private su questo videogame, trovate tutti i social per contattarmi in descrizione e nel commento fissato in alto. Davanti a un pubblico di 260 persone stiamo registrando questo video, ragazzi, giustamente lo faccio anche vedere nel video, siamo 260. In realtà nella live di oggi abbiamo fatto un picco di 780 spettatori, quindi vi ringrazio. E andiamo subito a parlare delle novità, facciamo un recap di tutte le novità. In realtà i ragazzi che potete vedere anche qui in chat, che stanno... Ragazzi, spaccate un po' la chat che si vede anche nel video, spaccate un po' la chat. I ragazzi in realtà che stanno qui in chat non sono tanto contenti, come ovviamente non siamo contenti, non sono contento nemmeno io. Perché? Perché le novità sono state ben poche. Ma in ogni caso facciamo un recap. Praticamente sapevamo quasi tutto, perché ci sono delle squadre offline sbloccate, squadre offline sbloccate, a partire ovviamente dall'arrivo dell'aggiornamento. E sappiamo che sono stati inseriti, anzi migliorati, un comando, ovvero il finest dribble, ed è stato migliorato il contrasto. Quindi adesso i contrasti saranno più realistici, diciamo, non troverete più un Messi che butta a terra un Viera. Il gameplay hanno fatto vedere poco e niente, hanno fatto vedere solo il gameplay da mobile e nemmeno ve lo faccio rivedere. Sappiamo che ci saranno pack per quanto riguarda Messi e Neymar, pack ambassador. Sappiamo che attraverso gli obiettivi si potrà andare a vincere un Ribery bustato, se non erro, della Fiorentina. Vero ragazzi in chat? Sicuramente è così. E sappiamo anche che regaleranno Messi. Regaleranno un Messi. Adesso non entro troppo nei dettagli, ma regaleranno un Messi. Anche perché era live. Purtroppo era tutta in giapponese e questo è veramente uno scandalo, bisogna dirlo. Non è normale una live in giapponese senza nemmeno i sottotitoli in inglese. La novità, come dicevo, che invece non conoscevamo è quella legata ai booster. Ci sarà la possibilità di aggiungere ai giocatori un booster, o in maniera casuale, o in maniera specifica. Per avere un booster in maniera casuale, basterà avere un gettone Select Booster, lo chiamano così. E quindi, avendone uno, si potrà mettere in maniera casuale il booster sulla carta. Avendo invece 100 gettoni, si va a creare una sorta di gettone speciale, avendo 100 gettoni, che permettono di andare a scegliere in maniera specifica quale booster mettere sulla carta, ragazzi miei, della chat. Parlo anche con voi e non solo al pubblico che abbiamo su YouTube quest'oggi. Perché, come già detto, i ragazzi mi hanno chiesto di registrare il video in live e quindi siamo qui a fare tutto questo insieme. Io sono deluso, come già detto, come sono delusi i ragazzi della chat, perché oltre questo per adesso non c'è nulla. Non c'è nulla di nuovo, non hanno fatto vedere nemmeno degli spezzoni di gameplay per quanto riguarda la console, ma semplicemente degli spezzoni di gameplay per quanto riguarda il mobile. Ma soprattutto siamo tanto tanto offesi, questa è la parola giusta, ma non solo noi, in generale gli europei, per la mancanza addirittura, non dico della lingua italiana nei sottotitoli, ma addirittura della lingua inglese. Quindi la live sarà tutta in giapponese e questo è molto molto deludente. Io non so cos'altro dirvi perché altre novità non ce ne sono, ragazzi miei, e quindi invito tutti quanti a farmi sapere nei commenti che ne pensate. Beh ragazzi, io direi che per questo video può bastare così. Fatemi sapere, come già detto nei commenti, le vostre opinioni. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto alla vostra Simo Play. Bella ragazza!